Il pallone d'oro Sono contentissimo, erano tre anni che aspettavamo di ritornare a giocare questo torneo Sono contentissimo perché? Perché l'ho fatto e l'abbiamo fatto tutti insieme È bello vincere un titolo personale ma alla fine è questo gruppo che da anni va avanti e tutti gli anni diamo il massimo Quindi quest'anno siamo riusciti a vincere anche il campionato e siamo arrivati qua alle finali tutti insieme E vinciamo di nuovo dopo una pausa lunga Sono tre anni di pausa forzata e vuol dire che comunque passano gli anni però dobbiamo ancora trovare qualcuno che riesca ad avere la vostra qualità Perché insomma una squadra che vince per tre anni in fila è indiscutibilmente Soprattutto con una rosa non molto ampia Non molto ampia, abbiamo già trattato in area Una rosa non molto ampia L'obiettivo adesso magari è centrale fare una cosa che non è mai riuscita nessuno Il tripleto Eh? Il tripleto Vuoi fare anche la company cup o vuoi vincere? Sicuramente, la prima partita è andata bene Mercoledì siete già al completo, mi hanno detto Quindi è tutto un po' Sarà l'anno buono Sarà l'anno buono, grazie mille Grazie, è sempre un piacere partecipare al vostro torneo Grazie, grazie ragazzi